Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Qvelox Oggi sono qui come avrete visto dalla schermata del gameplay appunto su Infinite Warfare Ragazzi è passato tantissimo dall'ultimo video su questo gioco Più o meno una settimana che comunque è tanto Visto il numero di video che faccio E considerando che tratto solo code Praticamente anche se in questo periodo trattiamo anche un po' H1Z1 Dicevo è tanto tempo, tanto noto tempo Oggi sono tornato per registrare ma anche per giocare Perché volevo provare una modalità che vi mostro in questo video Che proveremo assieme Ovvero la modalità Detmatch a squadra è tattico ragazzi Perché vi porto questa modalità? Perché la voglio provare insieme a voi? Anche se io l'ho già provata chiaramente Perché questa modalità è una modalità diversa Che cambia completamente la visione che uno può avere di questo gioco Perché? Perché è una modalità senza i doppi salti in poche parole Proprio detto in due parole È una modalità in cui non si possono fare i doppi salti E quindi cambia tutto all'interno del gioco I doppi salti sono una variabile fondamentale per un Call of Duty Per qualsiasi FPS Cioè se puoi saltare e andare più velocemente Chiaramente puoi raggiungere punti più alti Puoi andare ovunque Ovviamente il gioco è diverso Il gameplay è diverso rispetto a Magari non poterlo fare Ecco quindi Ho giocato e mi sono accorto che di fatto Veramente il gioco cambia completamente Più di quanto mi sarei aspettato sinceramente Cioè il gioco diventa lentissimo E assume quasi la tipologia di gameplay di un vecchio code Cioè sembra quasi di giocare a un vecchio code Nel senso I problemi che si incontrano Non sono più i soliti Tipo gente appunto che ti salta in faccia Ma sono i classici dei vecchi code Cioè la gente che sta ferma Cose di questo tipo Veramente È assurdo ragazzi Quindi ho detto Boh vabbè ci faccio un video L'ha mossa Magari molti non la conoscevano Tipo me che appunto non la conoscevo Vedete quello che dicevo Avete visto quei due che mi hanno spratto ora Ecco Questi due sono dei pezzi di merda Proprio stile vecchio code Guarda e guarda e guarda Tutti fermi Negli head glitch Guarda guarda C'è ancora gente qua Ora lo faccio anch'io Guarda Lo faccio anch'io ora Metto qua e aspetto che arrivino Guardali guardali Questo è giocare vecchio code style in pubblica Tutti fermi negli head glitch Aspetta che Oddio No 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 Madonna mia Vabbè comunque In poche parole cambia tutto Ed è una tipa alternativa secondo me Se magari Li stanno un po' in culo i doppi salti Perché comunque Cioè alla fine su questo gioco Non lo so Cioè Non sono molto veloci Però sono strani Non lo so giocandoci Dando l'impressione Di essere proprio strani i doppi salti Cioè molte volte Sembra quasi che i colpi non entrano Una gente che salta Insomma Questo è un gioco Secondo me Probabilmente si prezza più così Perché Di fatto è molto simile a ghost E ghost doppi salti non ne ha Questo mi è stato all'avanti Non se ne è neanche accorto Ah e un altro problema È che le mappe Chiaramente non sono predisposte a Giocare senza doppi salti Quindi Questo non muore Non gli sono entrati i colpi Mi ha tirato un colpo Come cazzo è possibile Dicevo Le mappe non sono predisposte a giocare così Quindi Involgibili senza doppi salti Ed è un grosso problema Dovete war runnare E poi aggrapparvi Cambia proprio Totalmente il gioco ragazzi Bisogna giocare un po' più Col mirino puntato Veramente Sembra una cazzata ma È completamente diverso Cioè Guarda come ci si muove lentamente Nella ma tipo Come cazzo devo salire Devo camperare Raga non posso salire Che cazzo Aspetta arrivando uno E questo arriva con fantasma Fai vedere se è fantasma Palesissimo Perché è arrivato lì a uccidermi Pure se c'era l'Uav Guarda qua c'è gente Normalmente li avrei challenge Probabilmente saltando Questi qua Guarda quanto sta fermo questo Però In questa situazione Non posso che Cristo però raga Muovetevi Ho capito che non ci sono i doppi salti Però muovetevi Tutti fermi Guardali Anzi In realtà sta muovendo più di quanto mi aspettassi Però vabbè Perché poi raga Io ve la consiglio Sinceramente Chiaramente il gioco rimane uguale Guarda che cazzo era quella merdata che mi ha ucciso Minchia Una delle killcam più brutte che abbia mai visto Minchia un gorilla di merda Che si muove piano In maniera ritardata Che tira un buco nero E poi mi ammazza Stando fermo a mirare Mentre il buco nero mi aspira Cioè veramente Sembra una descrizione di un film orlo Ragazzi ma che cazzo Guarda questo qua Ho paura da facciarmi Perché mi blocca tanto se mi affaccio E c'è un overmo lì Ragazzi ma Questo è proprio il problema di Colozuti Che la gente abusa di ogni cosa Cioè se tu Metti i doppi salti Ci sarà la gente che preme A A ripetizione Anche se non deve fare i gamm Fai a caso Salta proprio per ogni cosa E metti un gioco con i piedi per terra Ci sarà la gente che sta ferma Completamente immobile a mirare È vero eh Cioè non è uno scherzo Come se vai adesso su Code 4 in pubblica Se vai ora su Code 4 in pubblica Trovi Soltanto gente che non Che non si muove Cioè ma proprio fermi Piantati in terra Cosa cazzo è successo Chi ha ucciso il tipo È molto molto diverso Ragazzi veramente troppo Vi consiglio di provarlo Se avete il gioco Non l'avete mai provata Perché Vedrete il gioco In una maniera completamente Diversa Secondo me se ci si prende un po' la mano E ci si abitua Può risultare molto più piacevole da giocare Cioè Tralasciando questa gente Tralasciando questa gente Guardate come cazzo gioca Che poi non è neanche colpa loro Cazzo che devi dire Cammina Va piano Però c'è voglio dire Rompono proprio i coglioni Qua c'è uno Qua c'è uno Uno che mi spara dietro Come sempre L'ho sdraiato È un altro Minchia raga È molto difficile giocare Secondo me Cioè non è che è difficile giocare È più difficile fare delle serie Senza morire Molto molto più difficile Non so dove andare ragazzi C'è la gente ovunque Dove cazzo devo andare Questo tipo è ovunque Ovunque io vada C'è questo qua Guardalo È sempre lì È sempre in questo punto qui È la quarantesima volta Che mi ammazzo in questo modo Guarda lo faccio anch'io Guarda lo faccio anch'io Mori Guardali guarda Il buco è nero raga Oh comunque li stiamo tritando Stiamo facendo 30 kill Che secondo me In deathmatch Soprattutto senza salti Non so un po' Che ce l'ha aperta Non è male Guardali guardali eh Guarda questo Guarda questo Qua non ho ragione a dire Che la gente Se ne approfitta Di ogni cosa Non è che se ne approfitta Abusa Approfitta sarebbe sbagliato Cioè non se ne stanno Stanno abusando Del fatto che Non ci sono i doppi salte Quindi si muove i piani Quindi stanno piantati in te Minchia un altro buco nero Di merda Non ho parole Aspetta un po' Che culo Ragazzi prendiamo il coso No Sono usciti raga Non ci credo Qua c'è qualcuno Oddio Oddio Oh ce l'abbiamo ragazzi Warden Godo Abbiamo iniziato un po' male Vedete secondo me Se ci si prende la mano Questa cosa si può spaccare Tranquillamente Risulta molto più piacevole Di una modalità normale Molto molto di più ragazzi Che vedete quanto è lenta Cioè la gente non te la trovi addosso Proprio il contrario Li devi andare a prendere Tu e questo è il problema Perché non si muovono Oddio E' proprio questo il problema 44-14 raga Cazzo sono finiti ora Sono potrebbero essere ovunque Visto che abbiamo Gente in ogni angolo Dove siete? Dove siete? Non è morto vabbè Quanto siamo ragazzi? 93-53 Ma è possibile che non si riesca Non li si riesca ad uccidere Per far finire la partita E' assurda sta cosa Ok le hanno uccisi ragazzi Oh comunque in poche parole Provatela Ditemi se vi piace Se siete d'accordo con me Ecco Poi non è che c'è molto D'essere d'accordo Quello che ho detto E' una cosa vera Cioè E' una questione Oggettiva Non soggettiva Cioè è vero che il gioco cambia E diventa più lento Non è che bisogna essere dei geni Per capirlo Però Ditemi più che altro Se vi piace Se la trovate Più piacevole Se la riuscite a apprezzarle Insomma quello che volete Ditemi anche se trovate anche voi Pezzi di merda fermi Tipo questo Titos qua PG Guardalo Titos PG Che cammina col mirino puntato Guardalo Titos PG Guarda che bello Titos PG Vabbè ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.